PALPIRIN E BEČPLI NECESARI A PARTIR DAL ANPRIM DE JANER 2016 COMPARA IL FEGLIO UFIZIAL DAL CENTUNGRISUN MÓ PLI EN FURMA ELECTRONICA. IN ABONAMENTE NE DOVRI BEČPLI. IL FEGLIO UFIZIAL DIGITAL E GRATUIT. SAI AQUAI AL COMPUTER, AL TABLET U AL SMARTPHONE EN AVENIR PON INSLEGGER IL FEGLIO UFIZIAL CENTUNAL INDEPENDENT AMANT DAL LEU E SENZA LOGIN. LAS PUBLIKATIONS DAL CENTUN DAL LAS REGIONS DAL DISTRICTS DAL CIRCULS E DAL LAS VIZNANCAS MA ER PUBLIKATIONS PRIVATAS VENIAN AKTUALIZADAS E MESSES MINCHADI ONLINE. LA NOVA PAGINA E SURVESAIVLA E SIMPLA DAPLICAR, SCHWELLT E FACIL CHATTINS LAS PUBLIKATIONS CHANTUNALAS, LAS INFORMACIUNS DA VARTIL REGISTER DA COMERCI, ILS INSERATS DA PLACES E DAUTERPLI. UNTER FUNC I vill meglio. UNTER FUNCTIONS DA CIRCHA, ATTRAKTIVAS, V feito la simpanolagem usw emperor, puhen posth ut Banks ebay. Questi differenti criteri si lasciano combinare liberamente. Grazie ai tipi e alle instruzioni dei servizi nella pagina sono anche più facile da leggere il file ufficiale centunale. I risultati della cerchia personalizzata può non venire abonati. Uschiaveni ins informa ad inna ed appertutto automaticamente da vart nuovi pubblicazioni interessanti. www.kantonsamtsblatt.gr.ch www.kantonsamtsblatt.gr.ch Raccuintai ussa vinavant!